Sorpreso a intascare una tangente di 10.000 euro è stato arrestato in flagranza di reato il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Torre Annunziata nel Napoletano. Il reato contestato è induzione in debita a dare o promettere utilità. Le fiamme gialle hanno trovato l'uomo in possesso del denaro in contanti consegnati poco prima a titolo di tangente da un imprenditore edile partenopeo affidatario di un appalto per i lavori di adeguamento infrastrutturale di alcuni istituti scolastici per far fronte all'emergenza Covid-19 in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza il 7 gennaio prossimo.